ciao e benvenuto su ghiera un giro attorno al mondo dell'orologeria sono pietro e oggi vi voglio parlare di un marchio e soprattutto farvi vedere la video recensione di uno dei diver nella mia collezione che amo di più amo di più perché ha soluzioni tecniche a un rapporto qualità prezzo incredibile ha davvero tutto quello che io vado ricercando in un orologio tra l'altro made in swiss kosk con un brevetto per l'inserto ghiera con un bracciale con soluzioni incredibili una cassa ammortizzata davvero un orologio straordinario straordinario davvero e non lo dico tanto per lo dico perché lo ripeto ogni volta che parlo con rafael o con marcus che sono i due proprietari del marchio perché rappresentano davvero l'apice di quello che il mondo dei micro brand anche quando parlo con qualche imprenditore italiano io lo ripeto sempre questo per me è il top chi raggiunge questo ebbene ha scalato davvero una montagna anche se non è facile e non so neanche se sia possibile per tutti perché perché ora ve lo svelo però mi raccomando prima di continuare a chiacchierare tra di noi fate un bel like e iscrivetevi al canale un modo gratuito per sostenere questo contenuto far crescere la community essere sempre di più qui a parlare di orologi con pacatezza che è la cosa che mi auguro a comuni me e voi fatemi anche tutte le domande che volete qui mi fa assolutamente molto piacere l'orologio e il marchio di cui vi voglio parlare è il formx reef un orologio davvero eccezionale ne sono entusiasta vedrete nel dettaglio il perché vedrete quali sono le soluzioni che sono state adottate dal marchio ma prima di vederlo vi devo svelare come riesce formx a fare tutto questo ebbene rafael fa parte di una famiglia di imprenditori svizzeri che produce componentistica per altri brand di altissima orologeria e di conseguenza riesce a prendere parte di quelle soluzioni a sperimentarle magari su formx eccetera e avere questi lotti di orologi incredibili che altrimenti non potrebbero essere sostenibili per un altro micro brand considerando il prezzo considerando cosa viene inserito e questo per me è qualcosa di eccezionale il solo inserto ghiera che troviamo qui progettato se lo trovassimo su un orologio come un omega come un tudor farebbe schizzare alle stelle il prezzo di quel di quell'orologio quindi è incredibile trovare tutto questo su un orologio così tra l'altro secondo me bellissimo ora guardiamolo da vicino così mi dite se la pensate come me vi aspetto qui per fare ancora qualche considerazione su questo fantastico formx riff cominciamo col dire che la riff oggetto della recensione di oggi non è l'unica collezione realizzata da formx esiste anche la essence che è l'altra che ho all'interno della mia collezione la essence denominata leggera il field automatic che è un po l'entry level per quanto riguarda anche il prezzo più contenuto rispetto agli altri modelli di formx poi ci sono le edizioni speciali e anche le summer collection sicuramente la riff e la essence sono le due principali comunque collezioni per quanto riguarda la riff è disponibile nella versione da 39.5 mm da 42 mm e infine una versione gmt con ognuna di queste tantissime colorazioni disponibili ed eccoci di fronte al packaging qua abbiamo una bella card dove ci viene dato il benvenuto in formx in questa scatola di cartone realizzata in maniera molto intelligente guardate come in pochi passaggi avete il vostro splendido formx riff all'interno della vostra collezione prima di farvi vedere però altri elementi come ad esempio qui troviamo in basso quelli che sono i libretti eccoli qua dove troviamo i passaggi di proprietà che ci sono stati perché formx è stata acquisita da raffael e di conseguenza diventa un libretto molto interessante da leggere abbiamo poi il certificato cosc che deve esserci per ciascun orologio dove troviamo ovviamente quelli che sono i dati del mio orologio una cosa adorabile troviamo poi un piccolo pannetto ed anche quello che è un ottimo devo dirvi la verità cacciavite formx con le vitti scusate con le maglie che sono state rimosse perché nel momento in cui acquistate l'orologio indicando qual è il diametro del vostro polso viene inviato l'orologio già a misura che è una cosa davvero secondo me ottima soprattutto parlando di un orologio comunque costoso di lusso qua che cosa troviamo ebbene troviamo due inserti ghiera perché una delle peculiarità di questo riff è davvero incredibile ragazzi è bellissimo questo lo devo dire all'inizio ve l'ho già detto in tutti i modi io adoro questo orologio e però non posso dimenticarvi che vi ho appena promesso perché ho acquistato anche questi due inserti ebbene guardate senza strumenti senza nulla ho tolto l'inserto e ho inserito un altro inserto in un secondo e ancora voglio ricambiare il look del mio orologio in un altro secondo ho aggiunto l'inserto ghiera nero che gli dà un'altra visibilità un'altra visione lo fa sembrare un altro orologio devo dirvi che tra tutte la mia preferita resta la blu e quindi vi farò vedere l'orologio con questa blu ma davvero questa è una chicca incredibile che da sola vale il prezzo del biglietto 1960 euro è il costo di questo orologio avete mai visto questa soluzione su altri orologi fatemelo sapere nei commenti che sono davvero molto curioso iniziamo a guardare alcuni dettagli dell'orologio vediamo questo bracciale a tre componenti completamente satinato davvero realizzato in modo ottimale nella parte della clasp troviamo il logo formex che è inciso e i doppi pulsanti per la rimozione per quanto riguarda invece la possibilità di fare un allargamento rapido magari d'estate o per indossarlo su una muta basterà premere in questa posizione andando a sollevare come vedete questa parte dell'orologio e ha già fatto dei clic come vedete infatti sollevando questa componente si può andare avanti e indietro e mettere l'orologio in un'altra misura davvero molto comodo tra l'altro è ovviamente un attacco proprietario quello che riguarda i finali di questo orologio ma anche la rimozione non necessita di strumenti terzi si può utilizzare semplicemente questa leva che una volta sollevata vi permetterà di aggiungere magari il cinturino in gomma aggiuntivo che magari volete acquistare sul sito la lunetta è in ceramica 120 scatti ed è davvero incredibile guardare l'effetto che viene dato dal fatto che siamo di fronte ad una ceramica all'ossido di zirconio per quanto riguarda la lunetta blu nera e verde in acciaio inossidabile per la lunetta in acciaio che vi ho fatto vedere prima il feedback è ottimo sentite voi è davvero un inserto dalla ottima finitura e dall'ottima qualità abbiamo diametro da 42 mm quello che è lo spessore di soli 11.4 mm il passo del centurino e da 22 la distanza da ansa ansa e da 47 mm il peso complessivo della sola cassa e da 90 qui vanno aggiunti ovviamente il peva aggiunto ovviamente il peso del bracciale regolato secondo il vostro polso abbiamo ovviamente essendo un diver ben 30 bar di resistenza all'acqua che vi permetteranno davvero di usarlo in qualsiasi contesto abbiamo un ottimo vetro zaffero con trattamento antiriflesso che si comporta davvero molto molto bene per quanto riguarda qualsiasi effetto di luce complice anche il fatto che sia piatto e che quindi non abbia deformazioni di sorta vedete come davvero la lettura è ottima in qualsiasi prospettiva lo si vada a porre all'interno dell'orologio troviamo un sellite sv301 nel grado più alto possibile ovvero quello di cosk con 25 rubini ovviamente abbiamo il fermo macchina la carica manuale ed è un calibro ad alta frequenza che raggiunge le 56 ore di riserva è vero fa parte di un calibro di fornitura ma lo troviamo davvero nella sua massima potenza ed affidabilità davvero un motore di tutto rispetto per un orologio di alto livello pensate per rendere la lunetta girevole unidirezionale ancora più solida è stato utilizzato la ceramica di ossido di zirconio e le graduazioni e i numeri sono incisi con pulsazioni femtolaser ogni lunetta richiede 60 minuti di incisione di precisione per ottenere l'effetto tridimensionale incredibile che rappresenta anche uno degli aspetti più interessanti secondo me dell'orologio le tacche lavorate a forma di ingranaggio sul bordo della lunetta consentono al subacolo di avere una presa ideale per impostare e monitorare in modo sicuro i tempi di immersioni e le soste di decompressione tra i quadranti disponibili c'è anche la finitura soleil in questo caso invece siamo di fronte ad un orologio col quadrante bianco secondo me realmente spettacolare quasi tendente alla ceramica ore 6 troviamo il nome della collezione riff cronometer 300 metri poco sotto ben delineata senza che sia sottolineata da nessun altro elemento se non da questi piccoli incavi troviamo la data ben esposta e poco sotto la scritta swiss made con un indice presente e leggermente troncato una geometria totale del quadrante ottima e 12 troviamo il logo formex applicato sotto invece lo troviamo stampato e possiamo già iniziare ad ammirare qual è la complessità e la geometria degli indici applicati che voglio farvi vedere da vicino potete vedere da vicino gli indici sono davvero realizzati in modo molto complesso sembrano dei piccoli scivoli che troviamo lungo tutto l'orologio ben realizzati con tra l'altro delle lavorazioni che li rendono ancora più complessi il fatto che le sfere siano più scure le rendono ottime e rendono il quadrante leggibilissimo abbiamo visto passare la sfera dei secondi lollipop la sfera delle ore e dei minuti invece non hanno nessun richiamo a sfere canoniche sono proprie del mondo di formex quella di ore e minuti va a ricordare solamente gli indici che abbiamo appena visto del quadrante sull'inserto ghiera l'ultimo elemento da sottolineare che c'è anche un bel dot che può essere utilizzato ed è molto prezioso soprattutto in fase di immersione questo elemento sarà apprezzato da chiunque stia cercando un orologio tecnico valido da indossare ovunque soprattutto in profondità la pasta luminescente presente sull'orologio è la super luminova bg w9 svizzera che emette questa luce blu che perdura nel tempo e che realmente al primo crepuscolo inizia a fare il suo lavoro in modo ottimale e davvero duraturo ottimo anche questo aspetto la cassa è molto complessa e ben realizzata vediamo questa spigolosità che corre lungo tutto la carior che però viene anche addolcita da questo bisello lucido molto ben fatto che troviamo solo sulla parte dell'ansa guardiamo anche questa spigolosità che ritroviamo poi sulla parte alta dell'orologio tra l'altro abbiamo delle spallette che proteggi corona che vengono riprese nella parte opposta satinata e lucidata davvero possiamo vedere come anche da di lato la vestibilità sia ottima proprio perché le anse sono curvate e diciamo più che curvate sono molto inclinate e permettono quindi di essere molto dolci sul polso abbiamo il logo di formex sulla corona che è ottima vedete come si svita molto bene abbiamo anche un canotto molto generoso nel momento in cui si svita vedete che non c'è nessun elemento da sottolineare e si riavita allo stesso modo quindi davvero in maniera ottimale sia l'estrazione che per quanto riguarda la messa all'ora è davvero ottima rimuovendo agilmente quello che è il bracciale possiamo vedere il fondello avvitato con questa satinatura circolare che corre tutto lungo la superficie questa trama interna dove ritroviamo il logo formex e le scritte formex steel steel reef zaffir crystal e i 300 metri con un numero di riferimento interno è un fondello abbastanza semplice forse qui si potrebbe fare qualcosa di più visto l'orologio quanto è incredibile si potrebbe andare a pensare a qualche elemento anche se da realizzare qualcosa di particolare qualcosa di kitsch sui fondelli il passo è davvero breve devo dirvi che qualcosina di diverso mi piacerebbe vederlo guardate vi faccio vedere da vicino la soluzione tecnica adottata per togliere rapidamente il bracciale come vedete andando a spingere questa piccola levetta rientrano rientrano i pin e di conseguenza si infila senza davvero nessun problema 1960 euro compresi di dazi spedizione e di tutta la meraviglia che abbiamo visto invece per quanto riguarda le ghiere intercambiabili hanno un costo di 169 euro cada uno ecco devo dirvi la verità trovo che questo orologio sia incredibile il prezzo è più che corretto le soluzioni non mancano avete visto la complessità del bracciale che infatti ha dei brevetti la lunetta intercambiabile così facilmente che da sola è qualcosa di eccezionale il fatto che siamo di fronte a un calibro kosk insomma ogni aspetto è curato nei minimi dettagli e quindi il prezzo è assolutamente corretto eccoci spero che il video vi sia piaciuto io devo dirvi la verità ne parlo in modo entusiasta perché sono realmente entusiasta sono contentissimo è il secondo form ex che ho nella mia collezione ritengo sia fatto davvero bene da ogni punto di vista è difficile trovare dei difetti che siano oggettivi se non soggettivi per quanto riguarda alcune scelte estetiche ma davvero a qualcosa di incredibile e se farò un incontro prossimamente in fiera eccetera probabilmente indosserò questo orologio perché uno di quelli che mi viene più richiesto se ci sono rivenditori italiani non ci sono rivenditori italiani però se ne volete uno posso portare magari un orologio un form ex che ho in collezione in qualche fiera eccetera così lo potete toccare con mano e capire quello che vi sto dicendo mi preme sottolineare un'altra cosa il prezzo indicato loro hanno anche considerato dazi eccetera eccetera quindi voi si state pagando una cifra che comprende però già dazi e spese di sdoganamento e questo non è poco considerando che spediscono dalla svizzera perché producono davvero in svizzera non è che trovate spedizioni da altre parti del mondo perché hanno proprio l'azienda lì rafael se si gira c'ha i colleghi dell'altra azienda dove può andare a confrontarsi su tante tematiche quindi davvero è una occasione d'oro per quei collezionisti che cercano qualcosa di particolare con una qualità altissima da poter indossare con disinvoltura e vi dico di più quando ho incontrato rafael in quel di ginevra mi ha svelato e fatto vedere un prototipo di un nuovo orologio che sarà un game changer sarà davvero un'altra grandissima novità da parte di formex che porterà il marchio ad un altro livello non posso dirvi di più però mi spiace io vi saluto vi ricordo i canali dove entrare in contatto con me facebook instagram telegram gruppo facebook dedicato all'offerta per gli orologi tik tok e il sito gira.it ciao ragazzi alla prossima ciao 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 ciao